La vocazione si cura con la tenerezza umana, se nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie manca questa dimensione della tenerezza, il germoglio rimarrà piccolo, non crescerà e avvizzerà. Nella sua ultima giornata in Bangladesh, dopo una visita privata alla casa madre Teresa di Tashgau, Papa Francesco ha incontrato i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i consacrati seminaristi e le novizie nella chiesa del Santo Rosario, consegnando il discorso previsto e parlando a braccio in spagnolo, il Pontefice ha invitato tutti a superare con la preghiera e il discernimento le passioni umane, i difetti e i limiti che minacciano sempre la vita comunitaria, minacciano la pace. Soprattutto ha messo in guardia dal pettegolezzo una vera forma di terrorismo, meglio piuttosto ha rimarcato mordersi la lingua o dire le cose in faccia o rivolgersi a chi può fare qualcosa. Prima dell'ultimo appuntamento, quello con i giovani nel Notre Dame College D'H, Papa Bergoglio ha insistito anche sullo spirito di gioia da coltivare persino nei momenti difficili. Il ventunesimo viaggio apostolico si è concluso con l'incontro con i giovani ai quali Papa Francesco ha chiesto di non girovagare senza meta, ma di viaggiare nella vita con la sapienza che nasce dalla fede. Aggiornate costantemente il vostro software interiore, è stata l'esortazione finale, vi aiuterà a discernere il programma del Signore e a rispondergli nella libertà. Grazie. 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 Grazie.